buonasera a tutti grazie di essere intervenuti così numerosi in questa caldo pomeriggio di torino siamo qui al circolo dei lettori nella sala principale del circolo dei lettori di via bogino 9 per presentare un libro a cui teniamo parecchio perché è un libro che ci permette una serie di riflessioni oltre che approfondire e conoscere un caso di particolare rilievo all'interno della gestione dell'amministrazione penitenziaria italiana stiamo parlando del libro edito dal editore inaudi cosima buccoliero con serena uccello senza sbarre storia di un carcere aperto io sono bruno mellano sono il garante detenuti della regione piemonte questa iniziativa l'abbiamo voluta con la conferenza nazionale dei garanti territoriali i garanti comunali provinciali e regionali preseduta con il portavoce stefano anastasia che è il garante della regione lazio e abbiamo colto subito l'occasione offerta dalla pubblicazione di questo libro delle inaudi è uscito all'inizio di maggio e già anticipato durante il salone del libro per fare questo momento di confronto di riflessione con le autrici partendo da un testo che ci offre un'ulteriore analisi e valutazione della esperienza del carcere di Milano bollate e delle riflessioni che il vertice di quella struttura cosima buccoliero è stata a lungo vice direttrice direttrice del carcere di Milano bollate e ci offre con questo libro testimonianza grazie anche alla capacità della coautrice che ne ha in qualche modo fatto emergere anche i profili soggettivi personali di riflessione partendo dal caso personale dalla valutazione dell'esperienza personale proprio allargando la riflessione ad una ad un caso che è un caso di scuola nel senso che chiunque si occupa si occupi di carcere in Italia sa che abbiamo 190 istituti penali case circondariali o casi di reclusione e di tutti questi 190 c'è un carcere modello che è il carcere di Milano bollate e allora la riflessione la battuta anche così un gioco di parole molto semplice dal mio punto di vista è anche riflettere se stiamo parlando di un carcere modello o cosa che ci sembrerebbe come garanti più interessante e più diciamo di prospettiva un modello di carcere c'è un carcere che ha potuto sperimentare attuare e concretizzare nella vita quotidiana di un istituto grande e complesso 1200 detenuti una serie di progetti di iniziative di aperture di contatto con il tessuto sociale culturale imprenditoriale che sta attorno al carcere per rendere vera la previsione di legge per rendere vere quelle previsioni dell'ordinamento dei regolamenti delle norme che sulla carta fanno dell'italia dell'amministrazione penitenziaria un modello anche interessanti a livello europeo di previsione di percorsi trattamentali e progettuali di sicuro rilievo salvo il fatto che sappiamo tutti e lo sappiamo anche diciamo dal nostro punto di visuale molto particolare delle nostre 13 carceri piemontesi del nostro casa circondariale lo russo cotugno di torino sappiamo come poi la realtà la realtà dell'esecuzione penale in carcere rischia di essere non solo molto diversa ma in molti casi anche molto lontana dalla previsione della legge e delle norme discuteremo di questo libro di queste suggestioni con monica cristina gallo garante dei diritti delle persone private della libertà della città di torino con davide mosso avvocato penalista da sempre impegnato su questi temi su torino e a livello italiano anche con l'osservatorio nazionale delle carceri dell'unione camere penali e soprattutto con le due autrici cosima bucogliero che adesso è direttrice della casa circondariale lo russo cotugno di torino e che quindi in qualche modo confronta un carcere modello con una realtà molto diversa e anche molto complicata lo abbiamo detto in tutte le salse da sempre lo sappiamo ed è una consapevolezza diciamo anche della stessa amministrazione la casa circondariale di torino è definita giustamente l'istituto penitenziario più complesso d'italia sia per il numero dei detenuti sia per il sovraffollamento ma soprattutto per la complessità dei circuiti penitenziari la numerosità e la differenza di circuiti penitenziari compresi dentro le mura di cinta di quella istituto e con serena uccello giornalista del sole 24 ore che ha contribuito in modo molto significativo a questo questo libro mi fermo qui do subito la parola a monica gallo la nostra idea è due interventi degli interlocutori che innescano la discussione che portano delle questioni e delle problematiche poi sentiamo le autrici poi faremo un secondo giro di interlocuzione monica cristina gallo dal 2015 garante della città di dal 2015 buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi temevamo che con questo caldo non fosse così facile e allora io ho letto questo libro e ho insomma cercato di definirlo con una sola parola è un libro molto sincero sincero perché racconta in modo molto così schietto ma anche semplice l'aspetto più che altro umano di un direttore del carcere un direttore del carcere che per così dire tratta il carcere come la sua casa e questo emerge già dalle primissime pagine del libro i temi che tocca sono tutti tutti dalle donne dai bambini dai giovani dalle varie figure che ci sono all'interno di un istituto penitenziario e sicuramente come garante della città di torino il momento in cui ho saputo e poi anche sapete che il carcere lo chiamano radiocarcere perché le notizie non riescono a correre a una velocità incredibile abbiamo saputo che arrivava la dottoressa bucogliero da bollate e abbiamo iniziato ovviamente ad avere delle aspettative leggendo questo libro ovviamente le aspettative sono anche aumentate anche perché uno pensa che abbiamo una costituzione abbiamo un ordinamento penitenziario e di conseguenza gli istituti dovrebbero insomma essere pressoché gestiti nello stesso modo in realtà non è accaduto così torino è un carcere che ha sofferto che ha avuto insomma delle ferite non facili ed è un carcere che lentamente si sta riprendendo io ricordo che la primissima volta che ho fatto il post su facebook ma questo appena è uscito il libro qualcuno ha risposto al post su facebook ma cosa pensate di cambiare un carcere soltanto con un direttore ebbene io vi devo dire che in questi mesi se voi camminate nel corridoio della casa circondariale si respira un'aria diversa si iniziano a vedere i detenuti che passeggiano senza gli agenti a seguito questo non lo dico perché abbiamo qui l'autrice e la direttrice ma perché si comincia a respirare un'aria di risalita di apertura aria che io ricordo molto bene quando Pietro Buffa dirigeva quel carcere che era quella nave un po' sfondata e con le docce ammuffite dove però non emergeva quasi mai no? quel tipo di sofferenza lì poi ci andremo perché comunque è un pezzo importante la struttura del carcere non emergeva quello ma emergeva quella forza e quell'umanità che all'interno regnava negli anni soprattutto poi anche con la situazione pandemica il carcere per così dire si è fermato e fa molta fatica a riprendere c'è ad un certo punto nel libro della dottoressa Bucogliero dell'autrice ci sono tante frasi che anche prese così hanno un significato molto bello e molto profondo però sentire anche la politica che dice continuamente il carcere fa parte della città e si deve costruire questo ponte tra carcere e città lei ad un certo punto scrive Milano ha nutrito Bollate e Bollate rappresenta uno dei volti di Milano ecco io vedo qua per esempio il presidente della commissione che non è più solo commissione legalità del comune di Torino Luca Pidello che ringrazio per la sua presenza che è una commissione che ha voluto mettere anche la privazione della libertà all'interno quindi occuparsi anche di carcere allora io la prima io vorrei fare tre domande alla dottoressa Bucogliero la prima è questa è un'occasione pubblica quindi ancora più importante perché di domande gliene faccio tantissime nel suo ufficio le scrivo tantissime mail e ricevo anche risposta insomma quasi passa un'ora un'ora e mezza ma la risposta la ricevo sempre e questo comunque è un segnale anche molto importante però ecco capire come Torino Torino sembra che abbia un po' dimenticato a parte quelle strutture solide come per esempio la compagnia di San Paolo che ha sempre accompagnato la fondazione Musica ha sempre accompagnato dei progetti di valore ed importanti però l'ente che noi rappresentiamo deve ad un certo punto veramente iniziare a muovere i primi passi importanti però lo dobbiamo fare insieme e quindi questa mi sembra una buona occasione per capire le necessità e da dove possiamo partire questa è la prima mia grande richiesta a un certo punto poi lei dice quando noi non abbiamo noi dobbiamo essere struttura là dove la struttura non c'è il carcere di Torino ha una struttura ma la struttura è assai poco dignitosa direi anche faticente l'altro giorno ho fatto un giro nella nona sezione del padiglione B perché i detenuti volevano portarmi a vedere le docce e non hanno desistito al fatto che io insomma ho detto a loro che sapevo benissimo quali erano le condizioni di queste docce eppure ci siamo andati un'altra volta girando per la sezione mi sono anche accorta che perché poi lei sa benissimo che quando uno gira per la sezione i detenuti tutti ti fermano che però la maggior parte dei detenuti dormono senza cuscino quindi la mia richiesta era ma voi non volete il cuscino o non vi è stato dato il cuscino quindi le criticità sono ancora tantissime come riusciamo che obiettivi lei si è data e quali priorità si è data in questo periodo che noi speriamo più lungo possibile ma che sappiamo anche che forse non sappiamo questo ce lo dirà anche lei avrà forse anche una scadenza ad un certo punto e di questo già noi iniziamo a temere perché l'impronta di un direttore di un carcere è importantissima quindi l'idea che possa venire a meno questo cammino appena iniziato ovviamente ci lascia un po' di amarezza quindi per quello che cerchiamo anche un po' di certezza poi c'è un altro passaggio e con questo chiudo che è una la parte lei dedica una parte importante ai giovani detenuti perché è stata anche direttrice del carcere minorile però come lei ben sa abbiamo in questo momento anche noi avviato uno studio e l'ho già detto anche pubblicamente che siamo così molto preoccupati per il numero di giovani detenuti che sono presenti all'interno della casa circondariale quando dico giovani dico fascia di età 98-2003 stiamo anche paragonando questo numero importante che rappresenta il 10% con altri istituti penitenziari e ci stiamo accorgendo che è un numero effettivamente che si distingue molto lei ad un certo punto sì che parla del minorile però quando noi diciamo se falliamo quel pezzo di percorso lì abbiamo una grossissima responsabilità allora io mi chiedo il vedere questi giovani detenuti a contatto magari con chi ha commesso dei delitti importanti o in situazioni diciamo di complessità di circuiti come può essere il carcere di Torino io credo che sia veramente un'urgenza prima ancora di attendere i risultati della ricerca che comunque arriveranno iniziare veramente ad aprire una riflessione su questa problematica perché condivido pienamente quando lei dice se noi sbagliamo in questo momento che li abbiamo noi che lo Stato ce li affida vuol dire che creiamo un fallimento sul fallimento ed è facile da capire perché quando al primo colloquio con un ragazzo detenuto è ancora timoroso parlo di molto giovani è ancora così impacciato imbarazzato mi viene in mente proprio un tuo assistito dopo sei mesi quando lo si vede in cortile già camminare a tre con un passo diverso vestirsi in modo diverso vuol già dire che si è innescato qualcosa che non funziona io credo di aver posto insomma tra i quesiti che sono poi anche i quesiti che in qualche modo preoccupano un po' l'intera popolazione detenuta quindi mi taccio perché gli altri sicuramente sarete in grado di porle voi e sicuramente anche l'avvocato Mosso grazie grazie Monica l'idea era di sentire anche il secondo discontent quindi Davide Mosso se passi il microfono sì che appunto dicevo avvocato penalista e da tempo impegnato nelle iniziative appunto dell'Unione Camere Penali e mi permetto l'ho anticipato anche la direttrice poco fa ci tengo a dirlo qui adesso Davide Mosso è anche il patrocinatore del Garante Nazionale nel processo in corso al Tribunale di Torino su gli eventi contestati rispetto agli episodi degli anni passati lo dico perché in sala ci sono anche l'avvocato Francesca Fornetti che rappresenta la Garante Comunale di Torino e ho visto arrivare anche Roberto Capra che segue il Garante Regionale in quel processo che non è elemento di discussione oggi ma per correttezza per rappresentare un panorama complesso di quelle criticità che Monica ha voluto citare prima è un panorama molto complesso anche da questo punto di vista Davide Mosso il tuo intervento ovviamente il primo grazie a Bruno Mellano per aver organizzato questo incontro e per avermi invitato un ringraziamento alle dottoresse Bucogliere Uccello per questo libro bellissimo di cui tratterò poi quelle che sono state delle principali risonanze per me e al dottoressa Gallo anche e soprattutto per il grandissimo impegno che è profondo e da sempre come garante delle persone detenute e poi a voi che siete qui e che al quale affido un compito che è anche il mio compito perché più copie si vendono più io prenderò una percentuale insieme alla dottoressa Gallo e al dottor Mellano noi prendiamo 16,6 16,6 16,6 che però destiniamo dovevi avvisare la casa editrice che non è informata all'ufficio del garante regionale garante comunale e io l'osservatorio carcere di una camera penale cioè sono qui per convincervi a comprare questo libro ma veramente vi spiegherò il motivo allora mi hanno colpito e userò invece più definizioni del libro e di quello che appunto sono state queste risonanze la prima la riassumo in due frasi uso prima l'italiano e poi l'inglese perché è più evocativo l'inglese e cioè si può fare ma bisogna avere cura yes we can vi ricordate Obama ma I care we care che invece era la frase di Don Milani perché io ho letto all'interno di queste due frasi quel si può fare che a pagina 25 del libro ma è ripetuto e quella ver cura che a sua volta è ripetuto che sono gli ingredienti per riuscire a realizzare un carcere modello che però è il modello di carcere costituito creato disegnato dalla Costituzione e della legge del 1975 di ordinamento penitenziario si può fare secondo me è importantissimo anche per un altro motivo per questo vi dico che è importante leggere questo libro perché io vivo in un paese in cui ho la sensazione che il sogno non ci sia più che di fronte ad ogni cosa l'idea sia non si può fare certo si può fare e quindi leggere questo libro è andare oltre oltre il racconto del carcere ma per poterlo fare bisogna avere cura bisogna creare comunità bisogna ritornare a essere comunità bisogna sentirsi parte di un corpo sociale e il successo di Bollate la percentuale di recidiva ma che è il segnale di qualche cosa di molto più complesso perché tutto il lavoro che ci sta dietro è il risultato di questo lavoro è un libro già stato detto ma è un libro che a differenza di molti libri sul carcere parla del carcere visto da dentro molti libri sul carcere sono sociologici a cominciare da sorvegliare e punire adesso non io leggo un libro all'anno e mi piacerebbe elencarli per dimostrarvi che un libro all'anno lo leggo ma non è questo il punto comunque se leggerete se guarderete la bibliografia su la voce carcere società troverete un elenco di libri buona parte dei quali però sono sociologia questa invece è un'autobiografia mi permetto di dire credo anche poi lo dirà la dottoressa Bucodiero se mi sbaglio perché partirse e un po' morire e allora sono vent'anni della sua vita sono vent'anni in cui è diventata moglie è diventata madre e in cui ha vissuto un'esperienza straordinaria e quindi almeno mi metto nei suoi panni ma posso essere sbagliato il dare testimonianza e anche voler condividere un'esperienza forte della vita con l'idea che insomma non sia soltanto propria ma possa andare avanti ho annotato qui normalmente parlo a braccio ma invece questa volta non ho scritto il discorso ma proprio perché ci tengo a che il libro venga comprato e non per la percentuale è un libro informato ho scritto no perché comunque da molte cognizioni del sistema penitenziario italiano sono 128 pagine quindi non sono tantissime ma è denso sia di sentimenti di cuore di mente ma anche di dati importanti che è giusto che è importante vengano conosciuti e in questo senso è anche un libro colto ma è un libro colto in una duplice direzione è un libro colto perché ci sono poche ma azzecatissime citazioni c'è una citazione di Dostoievski che è fondamentale perché la la tentazione anche nei discorsi che spesso si fanno sul carcere e di generalizzare no abbiamo il detenuto piuttosto il detenuto perché nella percentuale maschile è normalmente superiore a quella femminile come il paziente per il medico come l'imputato per il giudice ma noi che facciamo gli avvocati non abbiamo l'imputato abbiamo la persona che assistiamo che assistiamo come persona che è accusata di un reato che assistiamo perché ha subito un reato qui tra l'altro c'è c'è Antonella che ha vissuto sulla sua pelle una delle più forti ferite che può vivere una persona e che può vivere una città l'uccisione di suo marito Alberto Musi Angelica scusami Antonella Angelica Dovar Musi dicevo allora il la citazione di Dostoievski diventa l'occasione per la dottoressa Bucogliero per ricordare che non esiste il reato non esiste il delitto non esiste il condannato ma esiste una persona e una persona che non si esaurisce nel gesto che ha compiuto che poi è la citazione che è il cuore della pace menterris come sappiamo l'encifrica di Giovanni ventitresimo distinguere sempre l'errore dall'errante riconoscere in ogni essere umano quella dignità che quell'essere umano si è dimenticato quando commette fatti enormi di avere anche Hitler era un essere umano si è semplicemente dimenticato di che cosa significasse essere un essere umano anche le persone condannate all'ergastro per le bombe di al signor Falcone all'ascolto del signor Falcone al dottor Borsellino alla sua scolta sono esseri umani che se ne sono dimenticati chiudo allora dicevo ma è un libro colto e c'è una bellissima citazione dell'intervento di Calamandrei nel 1948 lo riprenderò nella seconda parte Calamandrei perché ci sono molto affezionato che ricorda agli onorevoli colleghi anche a quelli che non sono stati in carcere che lui dice non hanno avuto l'onore di stare in carcere perché stare in carcere durante il fascismo voleva dire essere stati antifascisti e quindi aver rischiato la vita ecco anche a loro che bisogna guardare bisogna vedere che poi peraltro è il sottotitolo del primo capitolo del libro dicevo un libro colto perché fa cultura perché leggere questo libro aiuta nella misura in cui lo leggerete lo farete leggere verrà presentato aiuta a capire che il sistema italiano dal 1948 e poi nel 1975 ha fatto una scelta precisa rispetto alla persona che viene privata della libertà personale che non è chiuderlo in un buco e fargli passare 22 ore su 24 chiuso in un buco cosa che peraltro ha portato alla condanna dell'Italia per trattamento disumano degradante ma è certo privarlo di ciò che c'è più importante dopo la salute cioè della libertà personale ma appunto poi per il resto fare in modo che la sua vita si svolga in quelle 24 ore nel modo più simile possibile alla vita di ciascuno di noi pensate se adesso noi dovessimo passare 48 ore chiusi qua dentro senza poter telefonare incontrare i familiari o quant'altro c'è un libro sì vado a chiudere con due considerazioni ancora io credo che un altro aspetto che ho sentito come risonanza e che mi ha anche dato l'idea della grande difficoltà di essere la direttrice di un carcere o direttore di un carcere e cioè confrontarsi con l'ingiustizia per il discorso che vi facevo prima perché le regole del carcere la legge che regolamenta la vita in carcere delle persone che sono finite in carcere perché hanno violato una legge dello Stato lo Stato non le rispetta e diceva un altro un collega anni fa della dottoressa Bucogliero io sono un amministratore della sofferenza e questa sofferenza la dottoressa Bucogliero in quelle pagine con l'aiuto della dottoressa Uccello riesce a trasmettere in un modo straordinario e chiudo su questo e riesce a trasmettere in un modo straordinario secondo me per un motivo in particolare perché è una donna perché ha questa sensibilità per cui il carcere non è visto con lei al centro al centro ci sono le storie delle persone che ha incontrato alcuni di cui racconta ma ci sono tutte le persone che ha incontrato perché a un certo punto dirà che nella sua attività ha cercato di conoscere tutte le persone che erano bollate per quanto possibile un po' della loro storia no? e qui mi faccio un piccolo confronto ecco con altre persone di capacità che ho incontrato altri direttori che non sono neanche più direttori perché hanno avuto anche maggiore responsabilità ma che forse appartenere ad un'altra generazione o anche e anche perché uomini maschi si mettono comunque al centro le loro storie di carcere sono storie paternalistiche come possono essere le nostre storie di maschi di uomini che vogliamo lasciare un segno che abbiamo bisogno di lasciare un segno perché non abbiamo la paternità mentre la dottoressa Bucogliero sa essere madre sorella figlia di queste persone ma soprattutto riesce a fare questo mantenendo quella che a un certo punto è anche il titolo alla fine di un capitolo fondamentale cioè la giusta distanza la giusta distanza perché io leggendo questo libro a un certo punto quando raccontava di questa compartecipazione emotiva che a me sembrava esagerata mi sono detto mi sono detto ma riuscirà a finire questo libro riuscirà a finire il dialogo perché rischia esaurimento nervoso si chiama burnout ma poi quella roba lì ecco rischi di non farcela più e per fortuna recupera la giusta distanza che è una giusta distanza che riesce a mantenere anche con le persone poi che incontrerà quando sono uscite grazie un'ultima parola per lo cautrice scusami perché se no è sbilanciato mi ricordava un po' anche perché viene citato un discorso delle eumenidi e delle rinni in questo libro una tragedia greca o una commedia greca in cui ci sono le due voci perché in realtà da pagina 21 per tre pagine mi pare c'è la voce della coautrice cioè della dottoressa che è la voce alla quale risponde la dottoressa Bucugliora per tutto il libro ma che è la voce del cittadino e della cittadina normale specie se ferito specie se persona offesa specie se e cioè la voce del voglio che paghi voglio che paghi che è umana è naturale io sono stato ferito risponde una legge fisica anche voglio una risposta di segno uguale e contrario e allora le due voci per quanto poi tutto il libro si ha una risposta ma parte la fine in cui si affronta criticamente il percorso diciamo dal 1948 in poi e quindi questa contraddizione dello Stato che da un lato dice lavoriamo per l'inserimento dall'altra puniamo quando non vendichiamo ma sono due voci che sono un filo rosso di tutto il libro compratelo grazie grazie Davide Mosto gli spunti sono tantissimi io devo ancora fare una comunicazione nel senso avevamo previsto anche diciamo la voce dell'amministrazione penitenziaria nella persona del provveditore Rita Monica Russo che purtroppo però è stata trattenuta a Roma da incombenze del DAP del dipartimento che insomma è ancora una volta in una fase di transizione di cambiamento di individuazione di responsabilità apicali e quindi era molto dispiaciuta e devo scusare la sua mancanza qui oggi sarebbe stata sicuramente una voce molto interessante proprio per portare anche un'esperienza che parte anche lì da una direzione di carcere quello di Lecce e da una nuova responsabilità come quella del provveditorato del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta nel dare la parola a Cosima Bucogliero due solo sottolineature a me ha colpito quell'analisi che ho trovato veramente molto efficace di un mestiere quello del direttore che è un mestiere fluido come una uno di quei lavori che ti assorbe e che non ti lascia in qualche modo anche quando stacchi anche quando vai a casa anche quando sei in vacanza c'è sempre un telefono o un'attenzione un occhio o un retropensiero per quella dimensione e seconda cosa richiamando anche gli stimoli di Monica Gallo e la provocazione del carcere modello modello di carcere è certo bollate pur essendo bollate quindi un comune medio grande della provincia milanese è Milano è Milano il carcere è sul terreno di Milano ma soprattutto attorno al carcere c'è Milano con la sua cultura con la sua rete di imprese con la sua imprenditoria con e questo forse fa la differenza di un modello difficilmente replicabile sì grazie grazie per questa ulteriore così sollecitazione intanto mi unisco ai ringraziamenti sia ai garanti regionale comunale e all'avvocato Davide Mosso anche per questa presentazione insomma i garanti anche per la per l'organizzazione di questa di questa iniziativa in questa bellissima cornice insomma in questo bellissimo circolo e grazie a tutti voi che siete intervenuti davvero e beh l'avvocato Mosso veramente ha fatto una presentazione nella quale insomma non avrei saputo fare di meglio perché un po' ha raccontato un po' questo viaggio che abbiamo voluto raccontare in questo in questo libro che il viaggio intanto il viaggio della mia appunto della mia vita personale degli ultimi degli ultimi vent'anni che si poi si unisce anche alla vita alla vita professionale e quindi dal punto di vista personale e sicuramente insomma la crescita di una di una di una donna insomma che è riuscita anche a realizzare insomma nella vita nella vita privata tutta una serie di cose partendo tra l'altro anche dal rapporto di amicizia con Lucia Castellano della quale di cui parlo nel libro Lucia Castellano in questo momento è provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria di Napoli ed è anche dirigente delle misure di comunità e a cui devo poi anche l'arrivo il mio arrivo a Bollate e poi appunto questo viaggio del carcere di Bollate dall'apertura fino insomma al 2021 quando quando l'ho lasciato ed è un viaggio in un in un carcere appunto che sicuramente nasce con delle condizioni assolutamente favorevoli sia strutturali sia anche proprio di visione non ci dimentichiamo che all'epoca il primo direttore del carcere di Bollate è stato il dottor Pagano che è stato anche provveditore qui a Torino ed è che insieme con il provveditore dell'epoca e anche il dipartimento dell'epoca con il presidente dell'epoca insomma avevano così avevano avevano visto insomma avevano pianificato ecco un'organizzazione di carcere che doveva appunto avviarsi che doveva aprirsi e un carcere che proprio perché diciamo appena aperto poteva in qualche modo anche diciamo dare così orientarsi verso un'organizzazione scusate il giro di parole proprio costituzionalmente orientata quindi la possibilità anche di utilizzare tutti gli spazi che ci sono al carcere di bollate per le attività trattamentali per le attività per le attività lavorative per attrarre anche imprenditori per attrarre investitori per attrarre per attrarre datori di lavoro che potevano appunto poi realizzare appunto delle attività all'interno dell'istituto penitenziario quindi sicuramente la diciamo la le condizioni del carcere di bollate sono delle condizioni sicuramente straordinarie però anche perché appunto c'è una vision c'è un programma sicuramente però nel corso del tempo questa vision si poteva anche come dire nel tempo si poteva anche in qualche modo allentare se non ci fosse stato appunto un gruppo di persone che ha contaminato altre persone altri operatori che sono arrivati e che hanno comunque mantenuto sempre il come dire l'obiettivo il progetto il progetto qual era era quello di realizzare un istituto penitenziario di fare in modo che si realizzasse un modello organizzativo diverso da quello a cui siamo abituati fino a questo anche adesso insomma a quello che ci riporta molto spesso la cronaca un istituto penitenziario in cui si dà una poca attenzione alla persona e poca attenzione anche al percorso che la persona fa all'interno del carcere ripeto Bollati sicuramente nasce sotto una nasce con delle condizioni insomma veramente estremamente favorevoli che sono poi rimaste perché ha avuto poi la fortuna di avere di essere di ritrovarsi proprio a fianco alla ai luoghi dell'Expo no? di Milano e quindi anche l'apertura dell'Expo non ha fatto altro che ridare insomma un nuovo splendore un nuovo smalto al carcere perché insomma il carcere era proprio nei territori insomma che hanno poi ispitato l'Expo 2015 e tuttavia e quindi come diceva Bruno Mellano il carcere di Bollati chissà magari non è replicabile in altri contesti in altri istituti che non hanno le stesse condizioni io credo che come diceva prima l'avvocato credo che si possa fare invece io penso sempre ed è per questo anche che questo libro insomma che la mia idea era anche quella di come dire porre l'accento sul fatto che certamente non si possono realizzare tutte le iniziative che si sono realizzate a Bollate e però come dire la base da cui dobbiamo partire che è quella della relazione che noi creiamo con la persona detenuta che fa la differenza cioè negli istituti come dire anche anche gli istituti che hanno poche opportunità che danno poche opportunità alle persone che danno poche che hanno delle poche iniziative per le stesse persone detenute perché magari non ci sono gli spazi però è fondamentale la relazione che si riesce a distaurare con le persone all'interno del carcere e credo che quello faccia la differenza noi amministratori ci muoviamo all'interno di un contesto normativo che è molto chiaro perché abbiamo la normativa di riferimento che è molto chiara ed è la normativa di riferimento che deve essere rispettata da tutti gli istituti penitenziari da tutti gli operatori però a parte la cornice normativa cos'è che fa la differenza? Fa la differenza a mio parere proprio il modo con cui ci poniamo e che cosa riusciamo a trasmettere alla persona detenuta il carcere è un luogo di incontri nel libro insomma per chi poi lo leggerà nel libro parliamo tanto di incontri degli incontri che le persone detenute fanno con gli operatori del carcere stesso ma anche con le persone esterne e quest'occasione di incontri appunto gli incontri che si realizzano con le persone sono dei momenti che possono davvero dare il là al cambiamento al cambiamento che poi ci si aspetta o comunque si auspica che le persone cominceranno a fare all'interno del carcere quindi io credo che è vero l'istituto di Torino ha tante difficoltà tante situazioni anche di tipo tante difficoltà strutturali sicuramente la struttura di Torino non potrà mai e chissà quando insomma per riuscire a rimetterle in sesto bisognerebbe chiudere le sezioni e questo sappiamo che è assolutamente difficile perché chiudere le sezioni significa trasferire i detenuti altrove ecco anche su questo aspetto io mi soffermerei perché trasferire ricordiamoci che il trasferimento dei detenuti negli altri istituti non si fa mai a cuor leggero perché significa un po' come dire sradicare le persone detenute dagli ambienti dai loro affetti sacrificare anche le famiglie che si devono spostare anche tanto lontano dal luogo di residenza quindi veramente diventa complicato pensare al calcere di Torino come un istituto che possa in qualche modo come dire anche dal punto di vista dal punto strutturale insomma riuscire ad essere anche se insomma auspico sempre spero sempre che anche da questo punto di vista qualche cosa si possa fare perché effettivamente la struttura insomma ha bisogno di grandi di grande manutenzione ha bisogno veramente di interventi molto molto importanti e poi il libro parla appunto si sofferma sui fatti si sofferma sui fatti si sofferma su una serie di situazioni insomma su alcuni aspetti ecco la dottoressa Gallo dice su tutte le situazioni che si incontrano all'interno del Cacere non so se sono tutte probabilmente insomma avremmo potuto anche trattare di moltissimi altri argomenti però ci sono degli argomenti che stanno tanto a cuore che sono quelli che riguardano per esempio la situazione appunto dello straniero che ancora nel nel nostro nel nostro ordinamento comunque come dire non riesce ad avere le stesse le stesse opportunità le stesse iniziative che la legge invece riesce invece a mettere a disposizione per le persone italiane o comunque per le persone comunitarie la condizione delle donne la condizione delle donne e dei bambini vedete le donne in cacere sono anche lì un grande costituiscono insomma una grande problematica perché sappiamo quanto le donne soffrono le donne detenute soffrono all'interno del cacere per le problematiche legate per la mancanza e la lontananza della famiglia molto spesso anche dai figli che insomma molto spesso sono stati tolti sono stati collocati in comunità insomma con i quali figli non hanno più rapporti la questione dei giovani la dottoressa ha toccato un argomento anche molto molto importante che negli ultimi tempi almeno qui al cacere di Torino e insomma ci ha molto come dire ci preoccupa molto che è la presenza appunto dei ragazzi dei giovani delle persone molto giovani all'interno del cacere ecco abbiamo voluto insomma toccare i temi principali ecco gli argomenti principali che si incontrano che in questa esperienza che io ho fatto a bollate ma insomma che qualunque direttore di carcere si trova con cui si trova a confrontarsi quotidianamente e l'idea di questo libro è diciamo è nata anche per fare in modo che venisse così diffusa anche l'argomento carcere noi sappiamo che di carcere non si parla mai abbastanza che se ne parla soltanto in situazioni e condizioni purtroppo in cui c'è molto spesso insomma quando ci sono quando se ne occupa la cronaca no? è difficile invece che si faccia un ragionamento e che anche la comunità si occupi di carcere come dire in maniera equilibrata ecco senza farsi prendere dalla così dalle emozioni della pancia ecco e invece questo libro forse può dare un può essere insomma divulgativo può essere può cercare insomma di dare di fare in modo che anche le persone all'esterno anche le persone che non si sono mai occupate di carcere possano in qualche modo così avere un po' di curiosità no? perché sicuramente è importante la struttura del carcere sono importanti gli spazi certamente senza spazi non si va senza spazi non si va da nessuna parte noi abbiamo per esempio al carcere di Torino una situazione di sovraffollamento che è veramente importante e però è anche molto importante la sensibilità che ci mette la comunità di fronte appunto al tema del carcere io stamattina ho ricevuto un'intervista di una giornalista della stampa e ho ricordato che quando sono stata proposta per l'ambrogino d'oro c'è stata una sono state raccolte le firme da parte di operatori del carcere di Bollate quindi operatori del terzo settore volontari persone normali insomma che mettono a disposizione il loro tempo per per il carcere e a me è sembrato un modo anche per come dire un riconoscimento che le stesse persone volevano quindi non era soltanto un riconoscimento a me in quanto in quel momento direttore ma un riconoscimento proprio della comunità che ha partecipato e che ha fatto sì che il carcere di Bollate poi sia diventato quello che è adesso un modello all'avanguardia un modello in cui ci sono delle iniziative che è difficile da diciamo da avviare in altri istituti anche se vi ripeto io insisto molto sulle relazioni io credo che la relazione con la persona detenuta faccia la differenza e sono molto felice di quello che diceva la dottoressa Gallo cioè il fatto che si respiri un'aria diversa si respiri un'aria più leggera diciamo così e che soprattutto anche le persone detenute si sentano un po' più libere ecco anche di poter esprimere anche il loro malessere la loro sofferenza insomma cercate e avete un po' la consapevolezza insomma mi voglio un po' augurare che abbiano anche la consapevolezza che di fronte al loro insomma sanno che ci sono delle persone che possano ascoltarne ecco grazie 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 alla direttrice adesso la parola la coautrice con due piccole suggestioni una è questa c'è un sottocapitolo che si intitola l'odore del carcere una giornalista del sole 24 ore necessariamente non necessariamente conosce l'odore del carcere magari a bollate fa come come abbiamo fatto noi la visita dei garanti del coordinamento dei garanti piemontesi che sono stati in visita tre anni fa quattro anni fa ormai al carcere di bollate dopo mezz'ora ci eravamo persi perché tante età lì erano le ditte le cooperative le imprese i progetti quindi diciamo forse uno si aspetta un approccio di questo tipo anche da una giornata un approccio economico no benissimo e invece l'altra questione che è anche una segnalazione così rispetto al libro io ho trovato molto interessanti anche le note le note a piedi pagina che hanno in molti casi aperto delle finestre puntuali ma diciamo non noiose non necessariamente burocratiche ma molto importanti su degli approfondimenti e questo magari delle note sì allora innanzitutto grazie grazie di queste due domande che mi permettono subito di insomma di raccontare da un lato le scelte narrative che abbiamo compiuto io e così ma dall'altro lo spirito con cui appunto mi sono poste e ci siamo poste in questo racconto parto subito dal discorso mi avete sentito? ok parto subito dalla seconda sollecitazione che per me insomma è la più facile quella che si può concludere più velocemente sì l'importanza delle note è la decisione di porre delle note è stata quasi necessaria per collegamento al tipo di struttura che abbiamo scelto la struttura del libro è stata più volte spiegato detto è quello di un libro che vuole essere un racconto non è come dire una trattazione dall'alto ma vuole essere un racconto di vita da chi l'ha vissuto e allo stesso tempo ponendo ponendo in controluce le domande di tutti noi di chi non conosce il carcere di chi ha bisogno che vengano soddisfatte alcune domande che vengano date delle risposte a queste domande e poi l'altro aspetto è quello di dare forza al racconto attraverso le storie io come giornalista penso che qualunque cosa sia più forte non c'è cosa più forte della vita degli individui se ha senso il lavoro che faccio e la narrazione è quella di restituire i fatti le storie le riflessioni attraverso quel corpo vivo quella carne viva che sono gli individui e quindi il libro è un libro che prova a fare come dire un intreccio a intersecare ogni ragionamento attraverso un volto da cui quel ragionamento può partire una storia una voce per questo era in qualche modo necessario da un lato ottenere il ritmo di questo tipo di sguardo dall'altro però che appunto è un racconto che vuole restituire conoscenza e dare consapevolezza laddove è necessario aprire delle finestre e aprire anche degli spazi di approfondimento e qualche volta di chiarimento che non appesantissero appunto queste storie ma che in qualche modo fosse un servizio al lettore e quindi da qui la scelta di come dire aprire queste finestre attraverso diciamo lo strumento della nota la prima suggestione è quella dell'odore e il fatto che insomma dice una giornalista economica tra virgolette perché vuole restituire questo aspetto qui e invece non ci racconta i numeri del carcere intesi come le imprese che lavorano col carcere l'economia del carcere eccetera proprio per quel discorso che facevamo prima perché innanzitutto io penso io sono stata in carcere per la lavorazione di questo libro e prima qualche anno fa per un'esperienza appunto di lavoro ed ero in parte rimasta colpita dalla sensazione che ci fosse come dire un'attimo sfera un odore come accade nelle case chiunque di noi le nostre case sono personali anche per gli odori non solo per gli arredi e questo è un fatto che personalmente mi ha sempre colpito sentire questo e allora un po' mi ricordavo questa cosa un po' senza che neanche ce lo fossimo chiarita molto questa cosa dell'odore è venuta fuori durante una chiacchierata con Cosima e quindi c'è stato proprio un incontrare il fatto che si potesse raccontare quel tipo di sensazione cioè la sensazione delle persone che ci vivono degli odori delle persone che ci stanno dentro che cosa è cucinare in carcere io immaginavo e poi in parte non in parte totalmente Cosima me l'ha confermato questi odori si mischiano si impregnano le pareti si impregnano i vestiti e non può esserci una reazione compiuta se non anche attraverso questo il mio punto di vista era il punto di vista voleva essere il punto di vista di chi appunto vuole farsi delle domande sul carcere e del carcere non sa niente e io volevo che questa cosa si sentisse cioè a Cosima spesso durante la lavorazione di questo libro facevo delle domande anche molto ingenue cioè molto semplici basiche ingenue perché volevo che nulla apparisse scontato perché tutti noi come dire non abbiamo un'idea precisa abbiamo un'idea vaga di che cos'è il carcere cioè ci fermiamo fino a un certo punto tutti noi siamo attratti affascinati come individui e anche come cittadini dal tema del male ci poniamo il tema di cos'è il male nella nostra vita di cos'è il dolore poi come cittadini ce lo poniamo quando apriamo i giornali e leggiamo le storie della cronaca le storie in cui le vite degli individui deragliano io mi sono sempre posta e mi continuo a porre la domanda perché una vita deraglia e un'altra vita non deraglia che cosa fa la differenza quando agisce questa differenza ci sono storie in cui questa differenza è evidente dall'inizio dal punto di partenza ci sono storie in cui invece questa differenza non è mai evidente però accade accade che qualcuno come dire compie un reato e accade che qualcuno sia vittima di quel reato allora cos'è che ci porta a essere in un ruolo o in un altro ruolo però queste domande poi si sauriscono nel senso che chiudiamo il giornale e basta e invece poi c'è una parte della nostra vita di cittadini che si compie dentro le carceri di cui noi non sappiamo più niente e invece è una parte di cui dovremmo occuparci perché perché attiene strettamente a noi individui e a noi cittadini nel libro parliamo di un aspetto che è quello di un racconto che fa spesso insomma che mi aveva colpito quando Cosima me l'aveva fatto che ritengo sia particolarmente efficace il fatto che se io oggi vi chiedessi facessi la domanda che pone spesso Cosima vi chiedessi di disegnare una mappa della vostra città voi no perché come dire se siete qui vuol dire che del carcere avete consapevolezza e quindi del carcere di Torino avete consapevolezza sapreste collocare il vostro carcere di Torino ma in generale insomma se ponessimo la domanda a una persona di disegnare una mappa della propria città dentro questa città ci metterebbe tutto tranne forse il carcere e questo accade anche quando ci poniamo quando leggiamo la cronaca quando leggiamo cioè non andiamo oltre anche questa è una cosa che racconto sempre anche come come dire come giornalisti non ci poniamo mai il problema di raccontare quotidianamente il carcere il carcere si ferma quando arriva una condanna definitiva e la vita di quelle persone è finita lì e invece a me interessava capire attraverso la voce con Cosima che cosa succede lì dentro che cosa accade a quelle persone perché non perché siano altre persone ma perché sono il mio specchio in qualche modo non solo perché anche io avrei potuto deragliare non è accaduto e allora voglio capire perché ma perché attraverso la storia di quelle persone si compie la mia sicurezza si compie la sicurezza di mio figlio si compie la sicurezza delle persone che amo però questa consapevolezza è una consapevolezza piena di contraddizioni ed è la contraddizione che abbiamo voluto raccontare in quelle pagine a cui faceva riferimento l'avvocato perché se io incontro l'uomo che ha compiuto il reato non posso prescindere da un impeto di empatia cioè se l'incontro dentro un luogo chiuso come appunto una cella come il carcere se io poi scopro il reato che sta dietro quella condanna questa empatia diventa razionalità diventa sgomento e scivolo velocemente dalla parte di chi ha subito giustamente dalla parte di chi ha subito il danno e allora come si mettono insieme queste contraddizioni cioè l'empatia e la razionalità l'empatia e la vicinanza alla persona che ha compiuto un danno io posso stare in mezzo ed essere vicina a entrambi posso essere vicina a chi ha compiuto il danno e posso essere vicina a chi ha subito quel danno io penso che come esseri umani questa doppia vicinanza ci debba essere ma non è un fatto solo individuale è un fatto sociale perché nel momento in cui siamo vicini a entrambe le parti e proviamo a connettere queste due parti noi che invece siamo realtà neutre perché non stiamo né da una parte né dall'altra probabilmente abbiamo come dire risolto un tema che attiene non solo alla nostra democrazia ma proprio ubicamente alla nostra sicurezza si torna dire al discorso della recidiva cioè le persone non compiono più qualcosa se hanno consapevolezza di questo qualcosa però per avere consapevolezza di questo qualcosa bisogna questo io l'ho capito attraverso il lavoro che ho fatto con Cosima e attraverso poi i racconti di queste persone cioè la conoscenza della storia di queste persone dove riesce il percorso di consapevolezza e dove non riesce riesce quando si mettono le persone nella consapevolezza come dire nella condizione di farsi carico del proprio dolore del dolore che hanno procurato e per fare questo queste persone devono essere accudite sembra un paradosso ma non lo è bisogna far spazio alla conoscenza dell'altro e per far spazio come accade anche nella nostra vita quando noi siamo infelici non guardiamo nessuno quando siamo attraversati da un'infelicità non guardiamo nessun altro siamo pieni giustamente della nostra infelicità quando è che ci accorgiamo degli altri quando siamo pronti alle relazioni quando ci apriamo quando andiamo alle cene quando siamo come dire tranquilli sereni quando in qualche modo abbiamo normali angustie normali e questo accade penso che possa accadere anche a queste persone queste persone possono essere come dire capaci di guardare quello che hanno fatto e capaci di venire a patti con la composizione che come dire può dare questo dolore solo se ci sono le condizioni perché questo possa accadere questo non vuol dire che tutto ciò può accadere per tutti deve essere abbastanza come dire probabilmente ci sono persone per cui questa cosa nonostante tutti i nostri sforzi non può accadere perché ci sono sempre gli individui insomma che il male non è un'entità estratta può essere qualcosa di concreto nelle persone però il fatto che non può accadere per tutti non vuol dire che non bisogna impegnarsi perché debba esserci una possibilità per quanto più ampia possibile grazie 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 per l'intervento ma anche per il lavoro che avete fatto assieme perché al di là della percentuale rappresentata dall'avvocato è sicuramente un libro prezioso di riflessione di conoscenza e anche appunto di mobilitazione del tessuto sociale di una città importante come Torino rispetto alla sua casa circondariale in accordo con Monica Casinagallo cambiamo un attimo l'impostazione del modello del moderatore nel senso che chiederei adesso se ci sono visto che il pubblico è ricco e anche ricco di esperienze di professionalità di storie se ci sono due tre domande ma domande secche alle nostre autrici vabbè così do anche atto della presenza in sala del professor Franco Prina e del presidente Francesco Gianfrotta e sicuramente tanti altri che magari adesso mi sfuggono se c'è una domanda questo è il momento poi chiudiamo il giro con un secondo intervento di Monica e di Davide ok bisogna però usare il microfono e presentarsi visto che abbiamo anche l'opportunità se ti giri Fabrizio Maffioletti Presenza Italia Agenzia Stampa avrei una domanda per Sereno Uccello ci diamo del tuo come tra giornalisti allora tu hai detto i giornalisti non si occupano del detenuto nel momento in cui è finito il fatto di cronaca il detenuto viene ecco c'è un tu non credi però che ci sia proprio anche un problema di accesso alle cacce da parte dei giornalisti non parliamo dei CPR quindi non sia così semplice seguire le storie di un detenuto salvo saperle per via in diretta dalla famiglia da chi gli sta vicino è un lavoro complicato e soprattutto è complicato per un giornalista rendersi conto di che cos'è un carcere lui con i propri occhi perché è chiaro che se si ascolta con la voce delle famiglie con la voce si ha ovviamente uno sguardo di un certo tipo filtrato ma con i propri occhi diventa complicato ecco grazie 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 questa domanda e so ci aiuta ci sono altri interventi allora se viene però qua davanti perché non l'ho detto prima l'evento è audio e video registrato dal servizio pubblico di Radio Radicale e quindi se si presenta e fa la domanda buonasera a tutti Vittorio Prunastola sono un AVP dell'associazione Oltredì la mia domanda è molto veloce dottoressa noi ci siamo resi tanto conto del suo arrivo e di quanto ci ha fallicilitato l'entrata in carcere e la partecipazione quanto rimane ancora semplice ancora una domanda c'è ancora un spazio per un intervento AVP e sono i volontari penitenziari e la domanda era netta precisa vedremo la risposta se può presentarsi Roberto Cagliero sono insegno letteratura americana all'università di Verona e sono anche un volontario allora intanto dico soltanto che il libro mi è piaciuto moltissimo e soprattutto il capitolo sulle donne mi ha fatto capire tutta una serie di cose che andando in carcere per molti anni non avevo capito quindi veramente ho trovato delle informazioni utili e poi soprattutto è un libro scritto bene i libri scritti male hanno sempre poco da dire secondo me invece questo è un libro scritto bene l'altra cosa che mi è piaciuta è che è un libro che diciamo bypassa completamente la cultura della lamentela che è l'ideologia dominante in carcere dove tutti si lamentano i detenuti i volontari gli agenti eccetera eccetera questo è un libro che ti fa vedere al di là dell'esperienza individuale straordinaria ti fa vedere che si possono comunque fare delle cose con gli strumenti che si hanno che a volte non sono molti ma è possibile fare qualcosa è possibile vedere nel carcere qualcosa di migliore e più vicino come si diceva prima non quella che di fatto è un'eccezionalità ma che dovrebbe essere la norma l'eccezionalità dovrebbero essere i carceri che non funzionano la domanda molto breve è questa nel libro a un certo punto parla del fatto che favorisce corsi diciamo che guardino al futuro dei detenuti quindi non corsi di ceramica o corsi che abbiano una semplice valenza come dire di divertimento di passatempo eccetera eccetera ecco lì pensando a quello mi è venuto in mente che ci sono due tipi di corsi ci sono quelli che formano il detenuto per il momento in cui uscirà ma anche quelli che aiutano a ricompattare la sua personalità e che magari non hanno un'immediata rispondenza dal punto di vista così poi volevo ancora chiedere un'altra cosa ma me la sono dimenticato quindi mi fermo ecco volevo dire che sulla storia degli odori ho un amico che è stato in carcere ormai sono 15 anni che non è più in carcere e mi ha detto che aveva un compagno di cella che aveva girato tutte le prigioni italiane e lui a occhi chiusi se lo mettevano in un carcere sapeva descrivere dove era perché dice che anche se l'odore sembra sempre quello della minestra e della candeggina però in realtà è diverso quindi una lettura un po' prustiana dell'odore del penitenziario grazie grazie volete rispondere e poi facciamo allora sì allora anzitutto ciao Roberto ci siamo scritti ti ringrazio per la bellissima recensione allora la domanda collega e sì cioè hai ragione nel senso che il nostro sforzo poi deve fare i conti con la realtà la realtà ha due facce da un lato il fatto che non tutti gli istituti diciamo così ti aprono le porte ed è spesso la burocrazia è sfiancante eccetera quello che mi domando io è il fatto che ma noi ci poniamo il tema dello sforzo io vorrei che ce lo ponessimo ma è un come dire una una riflessione che faccio per prima su di me sulla mia esperienza professionale io sono entrata in un carcere la prima volta credo 12 anni fa e questo come dire questo grima dello che è rimasto qui nella testa si è compiuto 12 anni 10 12 anni dopo quindi come dire anche io ho messo la mia coscienza di giornalista su questo argomento in stallo per per un decennio no quindi è anche come dire una mia colpa l'altra l'altra cosa è che le storie che noi vogliamo raccontare devono fare i conti anche col contesto lavorativo in cui ci misuriamo e spesso probabilmente questo contesto non favorisce questa cosa qui volevo solo porre una riflessione sul fatto che nei giornali si parla di scuola si parla di sanità si parla di pubblica amministrazione a me piacerebbe che ogni tanto ci fosse una mezza paginetta dedicata se non proprio la storia dei detenuti almeno a quello che accade nelle carceri non solo quando insomma siamo in giornata post referendum insomma quando ci sono questioni referendari eccetera ma proprio come costanti o non solo quando ci sono i fatti brutali ma che ci fosse un'attenzione un po' più nei giornali si fanno le mezze pagine sugli argomenti c'è la pagina chi si occupa di sanità chi si occupa di scuola di istruzione eccetera la cosiddetta cronaca bianca a me piacerebbe che ci fosse anche il collega io mi candiderei ad esempio che sia il collega che si occupa di solo così perché questo forse potrebbe avere un ascolto o forse no però almeno proviamo ci proviamo a capire se i lettori vogliono leggere queste storie facciamo un test tutto qua poi sì poi volevo anche aggiungere che in realtà anche negli ultimi tempi un po' è cambiato molto ed è molto facilitato l'accesso al carcere da parte della stampa perché negli ultimi tempi gli ultimi ministri ma anche soprattutto la ministra Caltabia con l'ufficio stampa insomma agevola moltissimo il rapporto anche con l'esterno noi ce ne accorgiamo perché anche le nostre richieste sono immediatamente esaudite quindi io credo che sia un po' anche bisogna un po' anche superare forse l'idea che sia difficile appunto accedere al calcio provate insomma si può provare e poi si può vedere si può vedere come va però sono certa di questo insomma sull'odore sull'odore ma sull'odore l'odore sì l'odore è una caratteristica è una caratteristica degli istituti penitenziati perché lo sappiamo che le calceri sono appunto sono molte delle calceri sono fatiscenti e sono delle strutture vecchie quindi sì c'è questo misto questo miscuglio tra la cucina la mensa e poi anche l'odore proprio delle pareti ed è sicuramente come dice Serena è come una casa nella quale sentiamo l'odore delle persone che ci sono però voi pensate a quanto che odore ci può essere nel momento in cui non c'è nessuna separazione degli ambienti nelle stanze dove si mangia si dorme dove si quasi c'è anche il bagno quindi insomma è ovvio che la mancanza di spazio determina il fatto che gli odori sono degli odori a volte anche estremamente nauseanti che si cercano di coprire abbiamo detto soltanto dai disinfettanti e molto spesso insomma si fa e anche peggio questo lo sappiamo insomma e l'altra domanda era quanto rimango però sono contenta del fatto che i volontari abbiano insomma si accedano insomma in maniera in maniera facile ecco all'istituto penitenziario quindi di questo sono molto sono molto felice che si riconosca ecco anche il nostro sforzo perché pensate che è anche uno sforzo per l'organizzazione riuscire insomma poi a diciamo a creare delle condizioni per fare in modo che la comunità possa entrare nel rispetto poi delle esigenze di sicurezza di ordine insomma è tutto molto molto complicato quindi sono contenta che no volevo rispondere anche alla domanda che prima mi aveva fatto la dottoressa Gallo per quanto riguarda le 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 prospettive no i progetti ecco il calcio al calcio di Torino giusto faccio un inciso ma il calcio di Torino come sappiamo ha bisogno di tante cose io mi sono mi sono prefissa intanto di di affrontare due segmenti che secondo me sono fondamentali e che sono più che presentano più difficoltà che sono l'ingresso e l'uscita della della persona detenuta l'uscita lo sa benissimo lo sanno benissimo i garanti con la necessità appunto di realizzare uno sportello o comunque di fare in modo che le persone vengano seguite nella fase di dimissione che è una fase estremamente importante insomma per le persone detenute sappiamo che le persone che escono a fine pena e che se escono senza preparazione hanno un'altissima probabilità di tornare in carcere o eventualmente di essere di rimanere per tanto tempo affidati ai servizi sociali quindi questo è un aspetto e così come l'altro aspetto di cui anche il garante regionale è ben al corrente è l'aspetto dell'accoglienza che secondo me nel carcere di Torino risulta anche molto insomma difficile ecco problematico ecco questi sono i due aspetti l'ingresso e l'uscita senza contare però che mi piace anche dare sprint io vorrei ricordare che con il professor Prina siamo il primo istituto in Italia quindi il polo universitario di Torino è la prima esperienza in Italia in cui si consente alle persone detenute iscritte al polo di collegarsi di collegarsi direttamente al sito dell'università il sito delle facoltà e questa è una cosa che certamente io come dire ho trovato già tutto abbastanza pronto però insomma mi fa piacere ricordarlo perché insomma è una delle cose un'esperienza importante un'iniziativa importante che siamo riusciti a portare a portare a punto e così come un altro aspetto è quello di cercare insomma di incentivare quanto più possibile anche il lavoro le attività lavorative all'interno anche con le cooperative qui abbiamo Marco Ferrero che è della cooperativa Pausa Caffè e insomma mi fa piacere anche ricordare che anche all'interno del calciere di Torino ci sono tante esperienze e iniziative positive sulle quali bisogna insomma anche dare un maggior impulso probabilmente ma insomma bisogna un po' cercare un po' anche di l'impulso derivante dal fatto che comunque sono stati anni difficili anche a causa del covid grazie direttamente l'abbiamo detto preciso l'altro ieri casa circondariale 1443 detenuti su una capienza regolamentare che varia un po' dalle interpretazioni 1061 secondo un'interpretazione più restrittiva sotto i 1000 con un'altra interpretazione 1100 ma siamo lì nel senso che ci sono tra i 300 e i 400 detenuti in più rispetto a quella la capienza diciamo ordinaria prevista nel momento in cui si è pensato ammesso che il carcere così sia stato pensato perché è una conglomerazione di successivi padiglioni costruiti espansi e quindi con una serie di difficoltà appunto strutturale inevitabile adesso chiudiamo il giro con due nuovi interventi di Monica Castinagallo e di Davide Mosso voglio però ancora salutare perché non l'ho fatto prima e me ne dispiaccio Maria Teresa Pichetto che è storica docente responsabile del polo e dei percorsi dell'Università di Torino e anche autrice di un bellissimo libro che abbiamo presentato qui prima della pandemia forse una delle ultime cose che abbiamo fatto prima della pandemia sul ruolo della cultura in carcere tra l'altro magari ne daremo una coppia alla direttrice perché è veramente un libretto un libro ma un libretto nella dimensione ma veramente di grande apertura di spunti e di analisi Monica sicuramente insomma tutto quello che ci siamo detti ed in particolare le pagine di questo libro mettono proprio la persona al centro il riconoscerla come persona capita anche noi quando andiamo a fare i colloqui e ne facciamo veramente tantissimi nell'ultima relazione annuale abbiamo visto che sono abbiamo un punto documentato che sono incrementati almeno di 300 quindi siamo passati quasi 700 colloqui in un anno e noi quando però facciamo un colloquio con una persona detenuta la riconosciamo come persona la ascoltiamo e cerchiamo laddove è possibile di dare una risposta ed è molto commovente quando poi si torna in carcere che è la prima cosa che fanno quando arrivano arrivano con la lettera che noi abbiamo scritto ma lei ha risposto con il marchio del comune di Torino quindi è proprio un riconoscimento che va che va oltre che insomma si cerca di andare oltre sicuramente secondo me si può tentare soprattutto in questo periodo post-pandemico che questo riconoscimento che viene dato al detenuto che viene dato agli insegnanti con il loro ruolo che viene dato a tutti i volontari agli agenti della polizia penitenziaria ai titolari di cooperative all'interno che non sia solo un ruolo un riconoscimento individuale ma che diventi collettivo cioè riuscire a mettere in rete di più tutte le forze che ci sono perché giustamente come dice lei ce ne sono tante però negli anni si è perso un po' si è persa un po' quell'abitudine non dico di fare un tavolo perché è troppo abusata la parola però di mettersi insomma tutti insieme talvolta ci vengono a chiedere di fare delle progettualità quando magari noi sappiamo benissimo che ce ne sono già no? dello stesso tipo ecco dialogare di più e dialogare insieme per andare proprio oltre a questo periodo grazie grazie Davide che ha riaperto il suo fascicolo preoccupiamoci il secondo intervento poi ce n'è ancora uno in finale ma li metto insieme allora il secondo intervento in realtà non è sul carcere di Bollate ma è sulla realtà sull'altra realtà io vi leggo visto che parlavamo prima di Calamandrei l'inizio di una rivista 1949 marzo 1949 Il Ponte l'ho digitate su internet e ve l'ho scaricato integralmente che raccoglie le testimonianze di una serie di persone ne cito Massimo Mila Vittorio Foale Golone di Ginzburg Arturo Spinelli che sono stati in carcere durante il fascismo e lì il libro la pubblicazione comincia col titolo Bisogna aver visto le carceri italiane rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta noi crediamo di aver abolito la tortura ma le nostre carceri sono un sistema di tortura la più raffinata ci vantiamo di aver cancellato la penna di morte ma in realtà diamo a goccia a goccia la penna di morte in maniera meno pietosa ancora di quella che viene data dal carnefice noi parliamo di emenda dei colpevoli di rieducazione ma le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori ma questa citazione di Calamandrei è in realtà quello che disse Filippo Turati che aveva fatto esperienza del carcere alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904 e Filippo Turati nel 1904 quindi 118 anni fa però era fiducioso cioè diceva ma tra un po' di decenni noi ricorderemo il carcere quello descritto nel 1904 un po' come oggi noi ricordiamo le segrete di Castel Sant'Angelo allora è uscito due anni fa e in riedizione un anno fa un libro dal titolo vendetta pubblica il carcere in Italia l'ha scritto tra gli altri Marcello Bortolato che è attualmente il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che è il luogo deputato per Antonio Masia alla rieducazione alla pena illuminata perché tra l'altro la legge Gozzini ma prima ancora la legge dell'Unimento Penitenziario nacque in quella cultura in cui c'era il senatore Gozzini c'era il presidente Margara del Tribunale di Sorveglianza e poi il capo del DAP e quindi insomma che conosce a fondo questo sistema ma poi io vado a così a spiluccare da alcuni articoli degli ultimi due mesi il carcere genera crimine 4 giugno 2022 Ferruccio De Bortoli poi raccordo altro che rieducare il carcere porta i condannati a tornare a delinquere volevo buttare il codice ma così avevo pensato prendiamo il codice lo butto no perché questa è la legge dell'Unimento Penitenziario così butto i fogli e va bene allo stesso altro che rieducare il carcere porta i condannati a delinquere Luigi Manconi da magistrato ho capito che il carcere non serve a niente intervista del 13 maggio a Gerardo Colombo uno che è stato illuminato sulla via di Damasco le carceri sono palestre del crimine parla De Fattio segretario della Will Pa una delle 18-20 sigle penitenziarie perché è una delle rovine del sistema carcere in Italia cioè si è ridotto così sono i sindacati penitenziari e non approfondisco su cosa disse il signor Romano imputato Torino della garante qui presente la maledizione delle recidive un incubo da cui non si esce più la conferenza stato-regioni punta reinserimento i dati sono un disastro perché questa è la situazione in questo paese ma poi prendiamo questa legge dell'ordinamento penitenziario a me fa particolarmente piacere che ci sia il dottor Gianfrotta qui presente perché lo riprenderò nell'ultimo punto di questa invettiva no no stia ancora qui non se ne va allora la legge dell'ordinamento presidenziario all'articolo 61 dice che per l'esecuzione della pena ci sono le case di arresto e per le poi ci sono le case di reclusione per le persone in attesa di giudizio ci sono le case circondariali poi si è detto nelle case circondariali che dovrebbero avere soltanto le persone indagate imputate si è detto possono stare le persone fino a 5 anni la direttrice del carcere di Torino la dottoressa di Buccoliero ha un carcere in cui ci sono dal ladro di Gallini o di quello che lui ha rubato la bicicletta l'altro giorno al condannato ad ergastolo passando per le donne le donne con bambini le persone semilibere i sex offenders le persone straniere i collaboratori di giustizia le persone in alta sicurezza manca soltanto una cosa cioè un po' come io leggevo il libro e mettevo le pieghe a ogni pagina in cui c'erano delle cose interessanti alla fine erano tutte interessanti forse me ne è rimasta una senza pieghe nel carcere di Torino manca il 41 bis ci sarà ecco così abbiamo una torta completa persone imputate oppure condannate fino a 5 anni vogliamo andare avanti allora andiamo avanti il lavoro il lavoro è fondamentale e c'è un bellissimo capitolo più di un capitolo in cui la dottoressa e la dottoressa e la dottoressa e la dottoressa mettono in evidenza come hanno detto oggi quanto sia importante il lavoro per il recupero della persona perché restituisce dignità il lavoro è una chimera perché è vero che si citano le 8.000 persone che lavorano nei carceri italiani ma voi pensate che delle persone condannate alla pena dell'argastolo fanno lo scopino fanno lo spesino cioè noi abbiamo una persona di 50 anni che ha fatto una strada e dice che lavoro fai tu in carcere innanzitutto devi fare la domandina che manco 6 anni ti fanno fare la domandina no perché la maestra si vergogna di dire fai la domandina fai la domanda ma dopo aver fatto la domandina tu accedi a fare lo spesino e lo fai per un mese due mesi quindi quei dati tra l'altro sono taroccatissimi perché danno conto di tutte le persone che hanno lavorato ma se uno ha lavorato due mesi è come se non avesse lavorato chiudo potrei ancora andare avanti ma scusatevi chiudo perché c'è appunto dottor Gianfrotta e si è parlato prima della connessione con l'uscita con il momento dell'uscita come momento fondamentale e quindi non posso farvi la sede che consultavo scenicamente è bello poi io ho conosciuto Davide Mosso nel primo convegno che abbiamo fatto in consiglio regionale è arrivato di Corsa trafelato con la Toga e aveva buttato Toga volumi stai esagerando stai esagerando ricordavo solo che mentre noi parlavamo delle chiusure degli OPG c'era un sacco di gente in OPG come ancora adesso dovrebbero stare nelle REMS stanno in carcere e a 21 anni al San Vittore un ragazzo si è implicato dicevo chiudo con questa parte diciamo di vispolemica all'insegna dell'indigne vu del libro del partigiano 93 nel francese che dice consigli aiuto sociale articolo 74 perché nel 1975 non si vuole più che io prenda la tatinga da quello di cui mi ero preparato quindi sono obbligato a chiudere prima ancora che mi tolga la parola Bruno Mellano allora il consiglio di aiuto sociale dice nel capoluogo di ciascun circondario cioè dove c'è un tribunale è costituito il consiglio di aiuto sociale preseduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato è composto dal presidente del tribunale dei minorenni da un altro magistrato da un rappresentante della regione da uno della provincia da un funzionario civile dell'interno dal sindaco da un delegato insomma dai direttori degli istituti penitenziari bene il dottor Gianfrotta che è stato vice capo del DAP per un certo periodo eh prima di sì per un certo periodo fece le scarpe Caselli fece le scarpe a Margara perché dobbiamo dirla tutta no e quindi introdusse i gomme e cacciò Margara ma il dottor il dottor Gianfrotta fu vice capo del DAP poi diventò presidente della sezione del tribunale delle indagini preliminari del tribunale di Torino e istitui mi correggo se sbaglio un consiglio di aiuto sociale quanti sono i consigli di aiuto sociale in Italia uno che io sappia perché la Rita Bernardini facendo una visita del carcere di Palermo con il presidente del tribunale di Palermo gli ha svelato che c'era questo articolo 74 soltanto da 47 anni a lui è piaciuta ed è nato questo consiglio di aiuto sociale vi abbiamo parlato con Bruno Mellano lui ha mandato una lettera a tutti i presidenti del tribunale d'Italia credo a Piemonte per cominciare non ha risposto neanche uno neanche uno allora noi qui il consiglio di aiuto sociale ce l'abbiamo pronto perché noi abbiamo un magistrato un ex magistrato abbiamo due professori che hanno fondato il polo universitario abbiamo la possibilità innanzitutto di costituire il consiglio di aiuto sociale quindi la prima cosa che noi avvocati faremo domani mattina di Torino quelli citati prima sarà fare una richiesta perché venga fatto il consiglio di aiuto sociale la seconda richiesta sarà quella di fare una visita guidata al carcere di Torino con i giornalisti di stampa Repubblica Corriere della Sera e anche Cronaca Qui sperando che non vada come l'altra volta perché noi facciamo una richiesta quando facciamo la visita del 3 dicembre del 2019 ma l'ottimo Pietro Buffa che all'epoca era il numero 2 del DAP ci disse voi sì ma dei giornalisti manco a parlarne detto questo ho finito con il cagliere di Doleans ne avrei ancora uno sul fatto dei bambini in carcere questo però dimmi per lo dico perché i bambini in carcere nel 2015 Andrea Orlando proclamò al 31 dicembre non ci sarà più un bambino in carcere peccato che fino a poco tempo fa era una quarantina adesso un effetto positivo del virus sono diminuiti ce ne sono 19 non a Torino 3 ma in tutta Italia 19 e abbiamo il deputato e la cartabia che dice mai più nessun bambino in carcere peccato che lo dica una legge del 2001 8 marzo 2001 fino a chiaro che ha detto mamme con bambini in carcere non ci vanno perché andranno nelle case famiglia e le case famiglia sono due in tutta Italia e quando l'ottima dottoressa Gallo ha trovato un luogo per farci la casa famiglia mi pareva 5 cent occorrevano 500 mila euro ma la casa famiglia non si è fatta allora questo per dire che c'è molto da fare tantissimo da fare perché ancora una volta noi scontiamo sul carcere quello che è la normalità in questo paese cioè l'abissale distanza tra l'idea e la realtà voglio però chiudere con un messaggio di grande speranza ecco perché cominciare dal carcere cambiare il carcere perché istintivamente uno dice ma io avevo mio figlio sulla scuola gli è crollato il soffitto e uno è morto e l'altro è rimasto paralizzato io sono andato all'ospedale e sono finito in un ospedale in cui capitò il dottor Buffa rimane 5 ore con un sospetto di infarto e poi gli dissero ma lei era il direttore doveva dirci che era il direttore a proposito di siamo tutti uguali o quant'altro allora cominciare dal carcere perché il carcere è lo specchio di una civiltà del paese non ve lo dico io in questo momento c'è la frase ricorrente attribuita a Voltaire oppure a Dostoevsky anche nel suo Mandela dicono comunque non dirmi degli archi dimmi delle galere ma perché non dirmi degli archi dimmi delle galere perché un carcere civile ovviamente visto che l'ultimo specchio del più sarà un paese in cui sono civili le scuole in cui sono civili gli ospedali anche e solo soltanto davvero chiuso per un fatto economico perché noi spendiamo 3 miliardi di euro all'anno per questo abbaradano di 189 carceri di cui ce ne sono due o tre e due che possiamo dire rispetto nel modello costituzionale e di questi 3 miliardi se noi facciamo il conto della 70% di recidiva vuol dire che 2 miliardi e 100 milioni li prendiamo e li buttiamo nel cesso giusto? allora se noi cominciassimo a risparmiare di mezzassimo 35% noi risparmieremo un miliardo di euro e un miliardo di euro lo potremo spendere avendo carceri migliori per scuole migliori e per ospedali migliori grazie grazie Davide grazie per la rappresentazione scelmica come? ah beh sì sì Presidente Gianfratta però si deve alzare e prendere il microfono proprio per lasciare testimonianza sicuramente correggerà ah no vieni vieni anzi scusa ti avevo invitato a venire in prima fila ma hai fatto il timido no no grazie no va bene mi sembrerebbe troppo poi con tutto quello che è successo nel frattempo potresti scivolare sulle leggi no ma solo due brevi notizie non sono stato vice capo del DAP ma solo direttore dell'ufficio detenuti il che mi consentì di esserci il giorno 2000 dell'anno 2000 in cui fu aperto il carcere di Bollate questo semplicemente per dire che ho capito tutto quello che si è detto nel senso che era qualcosa la seconda osservazione è che ahimè questo bisogna secondo me cominciare anche a dire che purtroppo certi discorsi che facciamo oggi che abbiamo fatto in questa sede oggi si facevano già nel 2000 e forse anche nel 99 e forse anche nel 2001 e forse anche nel 2002 poi ho perso la presa diretta questa è una cosa che secondo me bisogna cominciare a sottolineare ma non per evidenziare meriti e torti ma perché la realtà perché la realtà è che si sono persi 20 anni e bisogna cominciare a dirlo per individuare le aree non dico fare i nomi tizio anche ma individuare le aree di responsabilità di questo ventennio che si è perso 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 completamente perso perché i temi della funzione della pena detentiva quindi della visione del carcere del modello di istituto collegato con l'edilizia penitenziaria la divisione degli spazi il carcere e il territorio erano discorsi che per me furono nuovi quando cominciai a occuparmi di carcere me ne occupo ancora perché a titolo di volontariato nel senso che non non ho mai smesso non ho perso questa sensibilità però si sono persi 20 anni questo secondo questo è una cosa che se ci penso mi fa imbestialire il consiglio di aiuto sociale io avrei voluto chiuderlo ma non per e no e spiego perché venne un'ispezione ministeriale che scoprì che c'era un conto corrente intestato non mi ricordo bene se al tribunale di Torino in riferimento al consiglio di aiuto sociale o direttamente al consiglio di aiuto sociale e però era un conto che si prosciugava per le spese ogni anno per cui l'indicazione fu dell'assistenza ai detenuti agli ex detenuti dell'assistenza si occupano i comuni in base a una legge del 1975 verissimo dunque il consiglio di aiuto sociale non ha più non opera non ha più ragione d'essere prendete questi soldi e dateli al comune riunì per delega del presidente del tribunale riunì il consiglio di aiuto sociale e disse beh è finita volevano picchiarmi e dunque il consiglio di aiuto sociale fu rilanciato fece anche qualche cosa ma con grande fatica ma questo sarebbe un altro capitolo non so poi come si è andata a finire se funzioni ancora o no l'equivoco era cioè come è potuto succedere questa cosa che sembra paradossale perché la riforma dell'assistenza sociale dell'assistenza agli ex detenuti era passata per una legge che però aveva lasciato inalterato le norme dell'ordinamento penitenziario che disciplinavano l'attività del consiglio di aiuto sociale un paradosso italiano chiudo non ho letto il libro sono molto interessato per quello a comprarlo e a leggerlo e ho già capito che lo recensio bene grazie grazie le battute finali alle autrici cominciamo con Serena io più che una mia battuta vorrei chiudere con una battuta di un ex detenuto diciamo così con una piccola storia volevo leggervi una paginetta ma siamo troppo troppo lunghi allora vado con solo la parte finale la parte finale di questa storia riguarda un uomo che si chiama Ottavio Ottavio era stato condannato per traffico di stupefacenti aveva un talento questo lo rendeva vulcanico a tratti calamitanti in grado cioè di calamitare la curiosità e l'attenzione un talento che lui stesso aveva ignorato fino a quando non si era ritrovato davanti a una tela scoprissi a 50 anni questo era di fatto accaduto a Ottavio così la sua indocilità era rimasta però l'avversione verso il mondo si era in parte smussata al punto che grazie al sostegno di una comunità Ottavio uscito dal carcere aveva davvero ricominciato in modo nuovo per la prima volta per prima cosa chiamandosi pittore e in effetti artista lo era veramente perché i suoi quadri ne avevano lo sguardo e la forza insomma li guardavi e pensavi che erano belli con Lucia Castellano che all'epoca era la direttrice avevamo cominciato a organizzare delle mostre e i quadri di Ottavio avevano avuto successo allora una volta che aspettavamo per una visita istituzionale il vice capo del dipartimento ci venne l'idea di chiedergli se poteva darcene qualcuno in prestito per arredare gli uffici e migliorarne l'aspetto dico a Ottavio non è che ci presterebbe alcuni dei suoi quadri per allestire resto metà frase risposta no no penso no perché no però Ottavio non dico nulla no d'accordo io e Lucia incassiamo e ci diciamo che la scena che abbiamo appena vissuto poteva accadere forse solo a bollate cosa ci stupiva il rifiuto di Ottavio a cederci i suoi quadri era un suo diritto erano i suoi quadri il fatto che ci trovassimo dentro il perimetro del carcere non ridimensionava il suo diritto di scegliere il no di Ottavio alla fine era la conferma che aveva svolto nel modo migliore il suo percorso sentiva che i quadri erano parte di lui si sentiva artista ed era artista così decideva di non cederceli in quel momento perché non aveva voglia di farlo perché chissà qualunque fosse il motivo sapeva che dipingere non era un orpello un accessorio era la sua identità il no di Ottavio era in più la conferma che avevamo svolto al meglio il nostro lavoro avevamo creato le condizioni perché lui percepisse di poter esercitare un suo diritto e di farlo anche con la direttrice del carcere perché il ruolo non determinava subalternità accogliere il no di Ottavio è stato un esercizio esercitare l'accettazione di quanto dura può essere la strada della condivisione condividere le proprie decisioni significa anche riconoscere la possibilità che qualcuno le metta in discussione tanto dal punto di vista personale che professionale non è un percorso semplice tuttavia non credo che si possa prescindere da questo atteggiamento non scorgo alternative se si vuole ribaltare il modello organizzativo fondato sull'imposizione grazie grazie anche per questa lettura di questa pagina illuminante le ultime parole giustamente a Cosa bucogliero con una premessa la domanda che è stata ripetuta che alleggia su rimani non rimani va via al di là delle legittime scelte e delle possibilità appunto di un vertice dell'amministrazione di scegliere cosa è meglio per sé per la propria storia fa però il paio e qui lo devo dire con una realtà come quella del Piemonte 13 carceri e due anni fa avevamo 5 direttori su 13 carceri che vuol dire direttori a scavalco su 2-3 sedi nelle vacanze di Natale su 3 sedi 4 sedi fa il paio con un'amministrazione penitenziaria che ha condiviso questa denuncia dei garanti del garante regionale fatta proprio peraltro anche dal Presidente della Regione che ha rilanciato sul Ministero questo problema dei direttori come vertice che tengono assieme l'area trattamentale l'area della sicurezza l'area contabile dando un senso all'esecuzione di pena dentro il carcere un'amministrazione che però continuamente con le proprie logiche da vertice dell'amministrazione poi succede che con lo stesso protagonista con cui condividi la difficoltà di avere i direttori si sposta si sposta il provveditore si sposta il vice capo d'appo si sposta il capo d'appo come un vertice che adesso con questo chiudo ma è inevitabile la evocazione del Consiglio di Aiuto Sociale caro Presidente Gianfotta la cosa divertente è questa che c'è stato ormai qualche settimana fa il vertice del dato che ha dato l'obbligo scritto nero su bianco ai direttori di carcere di contattare i CAS che non esistono nella fase finale dell'esecuzione dei dimittendi quindi come si fa come fa un direttore che non c'è che ha scavalco su vari istituti a contattare un istituto che è previsto dalla norma ma forse non c'è più la norma e sicuramente non è attivo sul territorio lo so per certo perché quando ero consigliere regionale all'inizio degli anni 2000 avevamo fatto un'analisi su tutta Italia ne erano sette i consigli di aiuto sociale compreso Torino compreso anche Mondovì ma non c'è più neanche il Tribunale e con l'attualità di un solo presidio che è quello di Palermo che magari ha sbagliato a costituirlo io do anche per scontato che magari l'interpretazione spinta dall'amica Bernardini non fosse diciamo la più attuale però certo è che come garante io ho segnalato ai presidenti di Tribunale che c'è un problema da risolvere o si devono fare e si fanno e si dà uno strumento ai direttori di carcere per i dimettendi o si mette una pietra tombale su quella vicenda ma si crea qualcos'altro davvero di opportuno di necessario per creare il contatto fra il dentro e il fuori perché la recidiva si batte così a te le ultime parole sì intanto sono molto felice di aver rivisto il presidente John Frott perché io nel libro ricordo il consigliere Sabella Alfonso Sabella con cui ero andato a lavorare nel 2000 e quindi mi ricordo benissimo insomma di quel periodo felice insomma del dipartimento che era anche carico anche di grandi aspettative no insomma beh no in realtà il caccia di bollate è vero cioè quando io parlavo della vision e del fatto che era che è stato frutto di un appunto di un progetto concordato tra centro e periferia e appunto c'era riguardava anche effettivamente l'ufficio detenuti ma io sì la questione in questo periodo insomma noi viviamo una situazione di grande incertezza perché appunto anche la questione insomma della mancanza dei direttori dei colleghi quindi le difficoltà anche soltanto ad assentarci per le feti veramente ci crea delle grosse difficoltà e tutto questo non è altro che un po' il risultato probabilmente di un'amministrazione che forse ancora adesso non sa bene quali sono qual è veramente l'indrizzo insomma che vuole dare alla propria amministrazione che cosa vuole per tanto tempo il fatto di non aver fatto i concorsi per i direttori faceva capire una sola cosa che i direttori probabilmente non servivano perché altrimenti se i direttori fossero stati considerati importanti probabilmente non avremmo aspettato 30 anni 20 anni insomma prima di certamente adesso aspettiamo i colleghi che dovrebbero arrivare quindi probabilmente questa cosa ci darà un po' più di spiraglio io chiudo sottolineando insomma quanto è importante che la comunità che la città veramente consideri il cacere non soltanto non sono parole vuote ma consideri veramente il cacere veramente come una parte della comunità ecco io credo che davvero davvero la comunità la città dovrebbe pretendere di avere notizie del cacere quotidiane e dovrebbe interessarsi proprio alla vita che si che si tiene in cacere nel libro noi parliamo anche degli aspetti della quotidianità che sono molto importanti perché effettivamente noi pensiamo che la persona che entra in cacere un po' da quel momento in poi è come se non avesse una vita in realtà ha una vita una quotidianità e ha una serie di sentimenti di emozioni insomma e quindi noi dobbiamo davvero occuparci del cacere se vogliamo intanto che la nostra società l'abbiamo detto l'abbiamo detto anche questa sera sia più sicura ma dobbiamo anche dobbiamo anche occuparci del cacere se vogliamo che davvero insomma si si confermi insomma una una società come la nostra che è una società comunque all'avanguardia è anche una società che mette al centro i diritti delle persone ecco grazie a Cosima Buccoliero e a Serena Occello senza sbarre storia di un carcere aperto Giulio Inaudi editore grazie a Davide Mosso e a Monica Cristina Gallo grazie a tutti voi che avete retto fino a quest'ora grazie 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 grazie